in questo momento grande rilievo le hanno le parole di personaggi che in questo settore il diritto sportivo hanno una certa rilevanza e da questo punto di vista fanno molto scalpore e hanno fatto molto scalpore stanno facendo discutere molto le parole di pierluigi matera professore avvocato che ha scritto il codice della giustizia sportiva e attenzione perché da un'indicazione ben precisa addirittura si lancia con un pronostico un verdetto che secondo lui non regge quindi scopriamo tutto il dettaglio perché le parole di pierluigi matera sono assolutamente fondamentali per capire come andrà a finire la vicenda juventus scopriamo nel dettaglio io però prima vi ricordo come sempre di supportarci e quindi mi raccomando per essere costantemente aggiornati sulle vicende di ventus sia per quanto riguarda il campo che per quanto riguarda l'extracampo vi consiglio di iscrivervi al canale attivare la campanella e supportarci ma soprattutto di dirci la vostra qui sotto nei commenti perché è molto importante perché ci aiuta a sviluppare delle argomentazioni molto più importanti e allora andiamo alla notizia perché pierluigi matera professore e avvocato che ha scritto il codice della giustizia sportiva è intervenuto nella vicenda attenzione perché lui dicono che sia molto bravo nell'anticipare le scelte della giustizia sportiva la scorsa settimana aveva previsto le motivazioni della corta federale per il meno 15 e i tempi e il ricorso della juventus insomma in certe situazioni ci ha visto bene ed infatti sul web è diventato un personaggio abbastanza illustre ecco da questo punto di vista si è sbilanciato un po' sulla vicenda juventus e anche per quanto riguarda la famosa carta segreta che ora il tar ha deciso che dovrà essere affidata ai legali bianconeri lui dice da questo punto di vista questo tipo di impostazione questo processo non regge più per il contenuto della nota in sé che non è detto sia determinante apre qualche dubbio il fatto che questa eccezione portata avanti dagli incolpati fin dal primo giorno sia stata respinta con ostinazione questo documento era stato ritenuto irrilevante ma questo ci fa capire che il quadro compestiva una prima verifica della giurisdizione amministrativa mostra delle falle assolutamente e quindi la domanda viene spontanea sorge spontanea quindi parte di queste indagini può risultare inutilizzabile visto che non si fa altro che mandare indietro i tempi del processo grazie a questa carta e lui dice il codice di giustizia della FIGCI spiega che gli atti provenienti da procedimenti penali sono utilizzabili ma non in questi termini la procura avrebbe potuto archiviare il precedente procedimento e poi aprirne uno nuovo gli elementi sopraggiunti sarebbero quindi stati utilizzabili a prescindere si badi che la procedura è la garanzia del diritto altrimenti si calpestano diritti come quello alla difesa e al giusto processo quante volte abbiamo parlato di questi diritti diritto alla difesa e del giusto processo i tempi processuali da rispettare quindi un giusto processo che possa dare la possibilità alla difesa di difendersi e per potersi difendere bisogna rispettare i giusti tempi del processo ed in questo caso non ci sono né processi realizzati con cognizione né tantomeno tempi di difesa rispettati la cui violazione è ampiamente lamentata dai legali bianconeri è proprio di questo che stiamo parlando qua viene violato il diritto alla difesa che è uno degli elementi principali non del processo ordinario o sportivo ma del diritto che è diverso questi ultimi avranno la facoltà di depositare una memoria integrativa entro dieci giorni prima dell'udienza del collegio poi si parla del ricorso il ricorso della juve che l'abbiamo ben presentato qui su fm sport abbiamo cercato di elencare tutti i famosi nove punti di questo ricorso che secondo me è stato a detta di molti ma io credo che sia stato scritto veramente molto bene in maniera molto dettagliata e lui dice i punti evidenziati gridano vendetta ed evidenziano come abbia prevalso la suggestione inducendo a conclusioni che non reggono a maggior ragione nei margini di una revocazione il libro nero di fp che sarebbe fabio paratici ad esempio ha un nome evocativo ma si tratta di un semplice foglio a4 di appunti e questo è vero e anche nella terminologia che è stata utilizzata chi non approfondisce non conosce le tematiche e non ha la curiosità di approfondirle e si ferma al titolo di un articolo alla prima pagina alle dicerie sente il libro nero di fabio paratici cosa si può aspettare un elenco di informazione tra l'altro illegali che possono in qualche modo come dire compromettere la legalità di questo calcio ed invece dice bene proprio il professore Matera dice in realtà non si tratta che di un semplice foglio a4 di appunti sono dei semplici appunti scritti in un foglio ma che si definisce libro nero si sostiene che Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono essere efficacemente rinnegati ma il punto è che nel precedente proscioglimento non mancava una prova ora trovata bensì si giungeva alle conclusioni proprio per l'impossibilità di qualificare le plusvalenze come fittizie termine peraltro utilizzato dalla procura federale mai dallo stesso Cherubini la portata suggestiva è contenuta negli stralci di intercettazione utilizzata e peraltro ancora da passare al vaio del giudicante nelle motivazioni ci sono due apparizioni misteriose si parla di apparizioni misteriose dice è ancora di più nelle apparizioni misteriose perché la prima riguarda lo scambio Pjanic-Arthur che potremmo definire l'operazione fantasma e visto che non rientra tra le 15 contestate infatti nonostante ciò la corte federale d'appello la nomina e la cita otto volte e questo perché c'è un'intercettazione di Cherubini in merito in cui peraltro si fa riferimento al valore di Arthur che tutt'al più riguarda il fronte finanziario del Barcellona e non della Juventus perché sì si parla molto spesso del valore di Arthur ma che riguarda il fronte finanziario del Barcellona perché è il Barcellona che mette appunto a bilancio il valore di Arthur e non di certo la Juventus l'altra è la famosa fattura corretta a mano dal Marsia un'altra situazione che ha del paradossale che compare nella decisione della corte federale d'appello e che invece non era presente nel deferimento della procura e quindi da questo punto di vista si parla addirittura di una di una nell'era tra l'altro delle fatture elettroniche si parla di una fattura corretta a mano in questo senso dico che ha prevalso l'impatto mediatico sulla dovuta lucidità di un ragionamento tecnico giuridico e quindi qual è? si arriva al pronostico perché poi si va, visto che si parla di sport, si va di pronostico qual è la sensazione sulla decisione definitiva? ritengo che sul binario originario della procura federale fondato sulle plusvalenze fittizie la corte federale d'appello abbia provato a innestare quello invece proprio della procura di Torino che al pari della Consob sostiene la tesi contraria il funambulismo che ne è seguito ha portato alla difficile e sostenibile pianificazione fraudolenta di attività lecita ma la verità è che sulla traccia federale non c'è spazio per decidere altro che il proscioglimento e non è Pinco Pallino che lo dice perché poi sono sicuro che queste parole andanno reinterpretate qualcuno ne prenderà spunto per dire eh ma lui è diciamo che non è il primo Pinco Pallino che lo dice quindi cosa deciderà il collegio di garanzia del CONI? andiamo al pronostico non vedo margini per una conferma dovrà riformare e senza rinvio non vedo margini per una riconferma dovrà riformare e senza rinvio il rinvio è previsto solo quando risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ma ormai siamo al quarto grado di giudizio e quando le parti ne fanno concorde richiesta non annullare inoltre lascerebbe aperta la Juventus la strada del Tar il club bianconero non potrebbe più demolire la penalizzazione ma chiederne una tutela esercitoria per cifre davvero importanti queste parole per me rappresentano un una vera e propria manna dal cielo per la Juventus sicuramente ma anche una batosta per per l'intero sistema calcio italiano perché quando si dice che non vede margini per una conferma alla decisione ma nemmeno per un rinvio alla corte beh qua si va dritti a gamba tesa su quello che è un procedimento che ad oggi ha una marea di crepe una marea di ombre che francamente fanno riflette voglio sapere che pensate voi qui sotto nei commenti quindi mi piacerebbe con voi aprire un bel dibattito importante succulento argomentato qui sotto nei commenti quindi ditemi la vostra qui sotto grazie